Ecco la piccola gatta Diesel in uno dei suoi esercizi preferiti, che definiremo As-Fidanken. As-Fidanken! As-Fidanken! As-As-Fidanken! Sempre più difficile signori, ora la coda del leopardo. As-Fidanken! E no, così è facile, cioè a domicilio. Ma che? A coda del leopardo! No, torniamo. La frusta, il più drammatico. As-Fidanken! Hai catturato! Ai che male, che male, che male! Ai che dolore!